La carenza di medici, stimata a 56.000 a livello nazionale, è un problema che coinvolge anche il Veneto. E per garantire i livelli essenziali di assistenza, una delibera della Giunta regionale autorizza i direttori generali delle ULS ad assumere medici in pensione a tempo determinato. A Palazzo Balbi sono convinti che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani, ma c'è anche la consapevolezza e la volontà di garantire cura e assistenza finché il problema non sarà risolto a monte. Il tamponare è un problema e darà una copertura giuridica ai nostri direttori generali. Nell'attesa che qualcuno risolve il vero problema, che è quello delle borse di studio e quindi delle specializzazioni e dei posti, si fa in modo che si possano richiamare i medici più efficienti che sono magari andati in pensione. La delibera della Giunta regionale esclude i prepensionati volontari. In Veneto mancano circa 1.300 medici e questo nonostante vengano banditi i concorsi per le assunzioni. All'ultimo disposto da Azienda Zero, per 80 posti, si è presentata una decina di candidati. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare debbono aver fatto la scuola di specialità, che dura un paio d'anni. Perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, e che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che vanno in pensione. Togliere il numero chiuso all'università ed effettuare la selezione durante il percorso di studi è da sempre la posizione del presidente Zaia, che è poi intervenuto anche sul dibattito aperto riguardo alle nuove schede sanitarie. Io posso capire le perplessità di tutti, posso anche capire fino in fondo anche chi si inquieta e va a manifestare. Però voglio dire una cosa, non si è deciso nulla. Adesso c'è la fase delle audizioni. Trovo strano che per andare a caccia di Alpassero qualcuno si attrezzi con un cararmato. Non mi torno al conto.